Uno dei valori fondamentali è questo, non abbandonare i tuoi uomini, mai, devi aiutarli a vincere, tu da quel momento in poi giochi per loro, giochi per far vincere loro. Il mio messaggio, ci sono tre cose che non puoi delegare. La direzione, perché la direzione è nell'aria, la gestione finanziaria, tu devi generare ricchezza. Terza parte è la gestione delle risorse umane, tu sei quello che tiene unito il gruppo e sei quello che tiene cariche le persone per fare le cose. Oggi siamo qui perché? Per parlare un po' di delica, per capire perché noi imprenditori, compreso me, alcune volte ci troviamo ad affrontare delle giornate che sono veramente pesanti, dove tutti i problemi ci cadono addosso. E quando hai deciso la delega, poi la devi sostenere. La persona a cui hai delegato, guarda, all'inizio deve sentire un forte supporto da parte tua, deve sentire che tu ci credi, che hai fiducia. Ti rendi conto che devi cambiare qualcosa, cioè che così non puoi più andare avanti.